Andrea Lanfri, atleta e alpinista di Capannori, primo paralimpico a raggiungere la vetta dell'Everest, ha ricevuto una targa dal Consiglio regionale per i suoi straordinari successi sportivi e per aver portato la Toscana sul tetto del mondo, come si legge tra le motivazioni. La cerimonia di conferimento si è svolta nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, alla presenza tra gli altri del Presidente e dei Vicepresidenti di maggioranza e opposizione dell'Assemblea Legislativa della Toscana e del Consigliere regionale Espressione del Territorio. Oggi noi premiamo Andrea Lanfri, premiamo il suo coraggio, il suo impegno, la sua passione, raggiungere la vetta del mondo, 8.848 metri e farlo così come ha fatto Andrea è qualcosa di stupendo. Dà il segno e manda un messaggio alle ragazze e ai ragazzi di crederci sempre, di non mollare mai. È riuscito a trasformare purtroppo la sua malattia in una forza, una forza grande per poter poi reagire e provare a fare quello che anche noi non saremmo in grado di fare. Quindi bravo Andrea e la Toscana con questa targa vuol darti un riconoscimento e ti chiede di portare il Pegaso, il Pegaso alato sul tetto del mondo la prossima volta. Per me arrivare su era un segno di rivalza sulla malattia che appunto nel 2015 voleva, come dico sempre, ha tentato di fermarmi più volte e la batosta che potevo dargli era quella di ripartire. Diciamo che questa è stata un po' la dimostrazione tangibile che non mi ha mai sconfitto, non mi ha mai battuto e ho sempre vinto. Questa spedizione iniziata a fine marzo di quest'anno e conclusa l'ultimo di maggio è stata secondo me abbastanza fortunata, fortunata sul livello del meteo e un po' di tante cose. Un meteo che in questa situazione è molto determinante. Diciamo che tutto è andato benone. C'è stato solamente un periodo, inizio maggio, la prima settimana di maggio che ha fatto un po' diciamo avere qualche dubbio perché il tempo era, stava andando diciamo veramente nel brutto e invece poi diciamo che c'è stata la settimana dopo che diciamo ha permesso il tentativo perché la mia preoccupazione maggiore era quella di non poter neanche tentare la vetta. Invece poi diciamo che fortunatamente siamo partiti, ero consapevole, mi ero preparato appunto da tantissimi anni, ero pronto per questa avventura e così il 13 maggio siamo riusciti ad arrivare in vetta, erano le 5.40, un'alba indimenticabile, una soddisfazione immensa. Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di Capannori, di Andrea, del suo percorso, di ciò che ha portato a compimento e lo siamo non soltanto perché oggi Andrea è arrivato sul tetto del mondo ma per il percorso che ha fatto e per quello che dà e ha dato alla comunità Capannorese. Al di là diciamo dell'evento e del risultato di cui parliamo oggi, Andrea ha dato tanto alla comunità Capannorese e lo sta dando anche dal punto di vista associativo ed è questa la cosa più bella, la cosa che ci interessa di più perché sta facendo sognare ed entusiasmare tanti Capannoresi e tanti Lucchesi e non solo perché appunto oggi è un personaggio che incide anche sul pensiero di molti ragazzi e poiché ha degli ideali e dei valori in cui ci riconosciamo e siamo davvero orgogliosi. Dal 26 al 28 agosto a Collodi torna senza fili Pinocchio Street Festival, la rassegna di teatro, musica e circo. Oltre 100 spettacoli, repliche comprese, a dimostrazione di quanto il progetto sia radicato in Toscana. Tra le varie performance previste, quella degli svizzeri Andreas Manns e Bernard Stockley, in arte Compagnia 2, lo spettacolo di teatro di figura dei Coppelia Theater e per quanto riguarda la musica comica, il quartetto Euphoria. La settima edizione è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso. Territorio bello, un territorio conosciuto in tutto il mondo e da sei anni a questa parte si è accreditato come uno tra i festival più importanti di musica, circo, insomma un luogo, un momento importante di valorizzazione del territorio che tiene insieme la sua storia ma anche la capacità di innovare. È bello sapere che quest'anno tra le tante, tante iniziative ci saranno anche i De Cru che vengono dall'Ucraina e che possono dare anche un messaggio, un segnale, un messaggio di speranza in un tempo così difficile. È bello poterlo ospitare qui in consiglio regionale, ringrazio il collega Nicolai per aver voluto questo momento che dà il segno di una Toscana che riparte, che riparte dopo il periodo terribile della pandemia e che riparte dall'arte, dalla cultura, dalla capacità di sapere emozionare. Questa è un po' l'idea di Toscana che abbiamo e in questo evento che dal 26 al 28 agosto vedrà Collodi al centro delle iniziative toscane, sarà un momento bello e un momento un segnale di ripartenza per tante cittadine e tanti cittadini. Abbiamo in programma quasi 100 spettacoli in tre giorni che si terranno in luoghi meravigliosi che sono il borgo di Collodi Castello, il giardino storico di Villa Garzoni e il parco di Pinocchio è la piazza dei Mosaici. Il progetto come tanti spettatori ormai sanno e conoscono è articolato perché abbiamo teatro, musica, circo contemporaneo, tutte queste rappresentazioni hanno un filo conduttore che è quello di offrire uno spettacolo all'aperto, in spazi, in scenari meravigliosi e in un modo in cui si possano fruire in maniera molto diretta e senza mediazioni, quindi fuori dai luoghi deputati come è il nostro solito fare, ma cercando di portare anche un'espressione colta, un'espressione alta, ad esempio è uscito il progetto Supergolesi di quest'anno che troverà luogo in un nuovo spazio che la Fondazione Collodi ci mette a disposizione che è il Chiostro di Villa Garzoni, un bellissimo spazio barocco che ospiterà un'opera buffa e proprio in questa dimensione si ricollega lo spettacolo colto a quello popolare perché poi alla fine anche dietro a queste forme che sono nate come intermezzo ma ci sta tutto il background della commedia dell'arte, dei comici dell'arte, dei buffoni eccetera e quindi diciamo spettacoli di tutti i generi, tre sere, non occorrerà come negli anni della pandemia prenotare, si può venire senza prenotazione però è consigliato prenotare attraverso il nostro sito www.senzatrattinofili.it almeno per gli eventi maggiori perché quelli avranno dei posti limitati, comunque poche centinaia di posti. Il Pinocchio Street Festival ha avuto il merito di essere entrato nel cuore di tante persone, è una formula immersiva, spettacoli e momenti di alta qualità dal punto di vista culturale all'interno di scenari bellissimi, il paese di Collodi Castello che ovviamente ha un fascino tutto particolare, la Villa Garzoni, il Parco di Pinocchio, col passare degli anni ha avuto sempre una maggiore rilevanza non solo sul nostro territorio ma anche molto oltre, sia appunto per gli artisti che vengono a esibirsi ma anche per l'esperienza che viene offerta, è un modo per vivere un territorio e i borghi e soprattutto per conoscere anche zone che forse a tanti sono sconosciute ma che come ad esempio tanti angoli di Collodi Castello hanno una bellezza veramente straordinaria, quindi l'invito è in quei tre giorni a regalarvi delle ore in mezzo alla bellezza, all'arte e alla cultura. Un festival come quello rientra nel concetto e nelle attività della fondazione che essenzialmente si rivolge all'infanzia, i suoi compiti sono notevolmente ampliati ma insomma si rivolge più ai giovani che non agli anziani come me e quindi anche questo festival è sentito e noi abbiamo messo a disposizione tutto quello che di migliore abbiamo e soprattutto mi è molto piaciuto che si sia messo a disposizione, che questo festival vada anche a integrarsi nel vecchio borgo di Collodi, borgo dell'anno 1000, quindi la villa e il giardino sono 700 anni dopo ma il borgo vero di Collodi quello storico è su e quindi che si coinvolga questo è un fatto decisamente importante. Il presidente del consiglio regionale e i componenti dell'ufficio di presidenza hanno deciso di conferire il gonfalone d'argento ad Alice Mariani, nuova etual della scala, per il suo talento, dedizione al lavoro e tenacia che rappresentano un modello positivo da proporre ai toscani, in particolare ai giovani che possono e devono aspirare a realizzare i loro sogni. La cerimonia di conferimento si è svolta a Palazzo del Pegaso, alla presenza tra gli altri del presidente e dei due vicepresidenti del consiglio regionale e della consigliera questore dell'ufficio di presidenza. Sono davvero orgoglioso che oggi il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del consiglio regionale, per questo ringrazio tutti i colleghi dell'ufficio di presidenza, venga conferito ad Alice Mariani, è un po' il segno della Toscana che vogliamo. Una ragazza nata in un piccolo centro, non nel capoluogo di regione, che grazie all'impegno, alla tenacia, alla fatica, anche ad anni trascorsi all'estero riesce a raggiungere un sogno, perché questo è un sogno per tante ragazze che provano ad emergere. Io sono davvero orgoglioso e mi auguro che Alice possa portare il Pegaso alato sul palcoscenico e possa volare in alto insieme a lui. Sono davvero onorata di essere qui e di ricevere questo riconoscimento così importante da parte della mia regione toscana, che è una regione che ho sempre amato e adorato nonostante tutti gli anni all'estero e ringrazio, sicuramente un ringraziamento speciale va al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e è davvero un grandissimo onore essere qua. Per me parlare non è così facile come ballare sul palcoscenico, per me quello è davvero il posto giusto per me dove mi posso esprimere, dove posso emozionarmi e quindi è stato un percorso travagliato il mio perché sicuramente ho fatto tanti anni fuori, sono andata via di casa molto presto, avevo 13 anni, quindi ero molto piccola, sono andata a Milano e poi all'età di 18 anni mi sono trasferita in Germania, pensavo fosse una piccola esperienza all'estero invece è durata 10 anni, quindi insomma è stata abbastanza lunga, però il mio desiderio è sempre stato quello di tornare e quindi l'essere qui oggi nel mio paese al teatro alla scala con questa nomina di prima ballerina davvero mi rende una persona fortunatissima e felicissima. Sicuramente per me la caratteristica principale per il nostro lavoro è la tenacia, nonostante il talento sia importante perché sicuramente il talento è la prima cosa che si vede, prima caratteristica che si vede in una piccola ballerina, però la tenacia, la perseveranza nel nostro lavoro, lavorare ogni giorno non è facile e avere questa dote aiuta nel raggiungere gli obiettivi più ambiti. In consiglio regionale sono stati presentati sei progetti nati grazie alla collaborazione tra ufficio scolastico regionale e assemblea legislativa che partiranno a settembre e prevedono iniziative didattiche e formative di partecipazione studentesca, cittadinanza attiva e percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali e orientamento rivolte agli studenti di tutta la Toscana che il Consiglio ha sostenuto stanziando 100.000 euro. Si parla di giovani soprattutto, è stata una scelta che ha segnato questa legislatura, quella di dare il sostegno ad iniziative che riguardano le nuove generazioni. In questo caso presentiamo un progetto bello, importante, innovativo, costruito insieme all'ufficio scolastico regionale. Ringrazio il dottor Pellecchia e il dottor Curtolo per un lavoro importante che è stato messo in atto. Sei progetti che pongono i giovani al centro. Ho voluto con forza riaprire le porte del Consiglio regionale alle ragazze e ragazzi più giovani delle nostre scuole per cercare di raccontare come si predispone una legge, quali sono gli atti normativi su cui lavoriamo, il valore e il simbolo del Pegaso, portare le Costituzioni nelle scuole, lavorare sulla costruzione di un nuovo paradigma con cui i ragazzi possano affrontare l'ingresso nella società civile e a ognuno di loro dare gli strumenti da portare nella cassetta degli attrezzi. Questa è una sfida bella, abbiamo bisogno dell'ufficio scolastico regionale perché solo insieme a loro possiamo raggiungere tante ragazze e tanti ragazzi più giovani e permettergli di diventare cittadini attivi. Se solo riuscissimo a coinvolgere dieci ragazzi in più e far diventare dieci cittadini attivi in più avremmo svolto un lavoro importante che dà il segno di quella che è la nostra idea di Toscana. Noi ci troviamo veramente a presentare dei progetti sulla didattica digitale, a presentare dei progetti sulla partecipazione attiva alle istituzioni da parte dei nostri giovani, alla consapevolezza dei giovani per le attività di partecipazione alla vita della scuola in proiezione della vita poi sociale che dovranno sviluppare e che sviluppano parallelamente. L'altra cosa estremamente importante è che ciascuna iniziativa è fatta insieme a partner altamente qualificati, quindi andiamo ovviamente dal Consiglio regionale ma poi passiamo attraverso tagliando con l'ordine dei giornalisti, con l'Università di Firenze, con Icon, con Google for Innovation, ci muoviamo su un partenariato che dà non solo una visibilità alle attività dei nostri ragazzi ma gli dà anche qualità e forza nella proposta innovativa.